I lavori di manutenzione che si stanno svolgendo in questi giorni qui sul San Martino per mettere in sicurezza dopo la caduta Massi dello scorso mese è un ruolo importante svolto dagli alpini. Alpini della sezione del Monte Medale, qui abbiamo Giuseppe e Angelo che sono due volontari, due alpini che stanno presidiando una parte del sentiero che porta alle zone censurate in cui non si può entrare per mantenere la sicurezza. Innanzitutto da quanti giorni siete in appostamento, quanti turni avete fatto? Tre giorni. Tre giorni e ogni giorno per quanto tempo state qui indicativamente? Due ore, due o tre ore. Due o tre ore. Avete incontrato tante persone, avete dovuto respingere? Sì, sinceramente non tantissime perché la gente magari ha visto i cartelli, di solito è molto più frequentato questo sentiero, però oggi sì qualcosa, meno del solito. Turisti, locali? Sì, anche stranieri. Anche stranieri, vi diceva due tedeschi. Due tedeschi ieri che volevano andare a arrampicare ma hanno trovato tutto a mandarle via. Sono comprensivi comunque una volta che si spiega. Sì, non hanno fatto nessuna questione, niente, non c'è stato problema. Ecco, il vostro lavoro non si ferma qui di fatto, cioè voi monitorate che nessuno entri e passi nelle zone appunto a rischio, ma alla fine dei lavori metterete sotto. Noi andiamo a casa nostra a mettere a posto le cose. Potremmo sistemare tutte le cose. Un po' alla volta, chiaro che noi non siamo. Con calma, sempre. Con calma. Il giovedì. Il giovedì siamo... Il giovedì è il giorno di lavoro. Siamo le contenzioni che facciamo sempre. Ricordiamo che voi gestite anche il rifugio piazza, quindi di fatto è un lavoro, insomma, siete molto legati a questa montagna come vuole anche il vostro nome. Quanti siete? E tutto il gruppo sarebbe un 230... Sì, beh, a San Martino. A San Martino siamo 6-7 che al giovedì veniamo, sono tutti i giovedì. Poi ci sono dei gruppi che fanno i turni la domenica. Noi siamo sempre quelli, sempre al giovedì. Piove, nevica, tempesta, ci siamo. Il giovedì è giorno fisso. Giorno sacro. Bene, di che cosa vi occuperete indicativamente? Adesso non sapete ancora come vi verrà restituito il sentiero, però indicativamente quali manutenzioni farete? E il primo passaggio, cominciamo a vedere cosa servirà, poi i lavori che si possono fare, cioè ripulire il sentiero, questo man mano che si passa si fa. Quello che c'è da cambiare... Da cambiare e sistemare, per forza. Ma sentite, ad agosto potreste essere in montagna a farvi le vostre passeggiate. Perché state qui? Qual è la motivazione che vi spinge ad essere qui? Il giovedì è fisso, è giorno sacro per noi il giovedì. È giorno sacro. Poi mai non c'è nessuno perché luglio-agosto è un periodo un po' morto. Però il giovedì... Si aspetta il giovedì mattina per venire su. L'amore per la montagna, questa montagna. Siamo degli amici abbastanza affiatati. Poi lui il nostro cuoco. Poi loro fa tutti i lavori, tagliano la legna, tagliano le piante, preparano tutto, sistemano. Loro sono addetti a manutenzione. Io gli do l'appoggio morale. E culinario anche. Culinario. Che serve sì. E anche bravo. Bene, quindi è anche un'occasione per stare insieme. Esatto. Bene, grazie signori, grazie per il lavoro che fate, insomma, volontario e molto prezioso del resto perché, insomma, i sentieri anche loro hanno bisogno di manutenzione e se non c'è nessuno che la fa, diventa sempre difficile, quindi grazie per il lavoro che fate. Buona continuazione. Grazie a lei, buona discesa a voi.